Mara Venier, a 73 anni, ha scelto di imprimere sulla sua pelle un simbolo eterno di amore familiare. Non è un segreto che i nipoti siano per Mara un faro di gioia e orgoglio. E oggi, attraverso un gesto tanto personale quanto inaspettato, ha deciso di celebrare questo legame in modo indimenticabile. Un tatuaggio condiviso con il suo nipote più grande, Giulio, il figlio di Elisabetta Ferracini. Stella di famiglia. Mara Venier, e il primo tatuaggio a 73 anni. Un segno indelebile sul polso, è questo che Mara ha scelto. Una stellina che brilla tanto nella sua vita quanto sulla sua pelle. Il tatuaggio sul polso, è una dichiarazione visiva dell'amore che la lega al nipote. Che ha scelto di fare eco alla nonna tatuandosi lo stesso simbolo. Sebbene la posizione rimanga ancora un piccolo mistero. Sono una nonna pazza. Scherza Mara nel video che ha condiviso su Instagram. Catturando l'attenzione dei suoi follower mentre il tatuatore si occupava del nuovo ornamento cutaneo. Con una battuta che rivela l'entusiasmo e la gioia di questo momento. Aggiunge. Mi ha convinto mio nipote. E non si ferma qui. Perché Mara, sempre con il sorriso, anticipa. Domani. Condurrò domenica in con la plastica sul braccio. Il video su Instagram mostra una Mara Venier radiosa. Mentre il tatuatore protegge il neotatuaggio con una pellicola. Un momento che è diventato subito virale tra i fan. I social. Palcoscenico della vita quotidiana. Hanno reso pubblico questo intimo rito di passaggio. Simbolo di una nonna e un nipote che condividono più di un semplice legame di sangue. Mara Venier fa il suo primo tatuaggio a 73 anni. Sono una nonna pazza. L'ho fatto per mio nipote. Mara Venier fa il suo primo tatuaggio insieme al nipote Giulio. Giulio. Al contrario della nonna, si tiene lontano dai riflettori. Pur essendo cresciuto in un ambiente familiare intriso di arte e spettacolo. A vent'anni, il giovane uomo ha già mostrato di avere un carattere distinto e una presenza sui social ben consolidata. Con oltre 11.000 follower. Tra cui non mancano le ammiratrici. Mara. Affettuosa e orgogliosa. Non perde occasione di esprimere il suo affetto. Per il ventesimo compleanno di Giulio ha scritto un tenero messaggio. Buon compleanno amore mio. Mi sembra ieri quando sei nato e oggi compi 20 anni. Non è un mistero che Mara Venier abbia un cuore grande. Capace di includere tutti nel suo affetto. Ma con Giulio e il piccolo iaio, di soli 5 anni, dimostra che non esiste limite all'amore di una nonna. Con questo gesto, Mara e Giulio hanno sigillato una promessa. Quella di un'affezione perenne. Che ora, in forma di stella, li accompagna ogni giorno. In un mondo dove il gossip vola veloce e le storie si susseguono senza sosta. La stella di Mara brillerà per sempre. Non solo nel cielo dei social. Ma anche sulla sua pelle. Testimone di un amore familiare più forte di qualsiasi parola. Grazie a tutti.